In poco meno di un triennio dal 2008 a oggi tagliato già l'80% dei treni notte dai per la Calabria con la conseguente perdita di 800 posti di lavoro. Un bilancio già drammatico che rischia di diventarlo ancora di più a partire dal prossimo 12 dicembre quando entrerà definitivamente in vigore la nuova offerta commerciale di Trenitalia. Sul piatto tra personale viaggiante, cucettisti e responsabili delle piccole manutenzioni ci sono infatti già pronti altri 150 licenziamenti che andranno a colpire altrettante famiglie regine. Oltre che contribuire a favore aumentare la piaga della disoccupazione in Calabria, la politica messa in atto dal gruppo FS pregiudica fortemente anche il diritto alla mobilità dell'utenza calabrese per la quale già sotto festività di Natale si preannunciano nuovi disagi provocati dal taglio di importanti convogli sulle principali direttrici a lunga percorrenza. Dal prossimo mese ci saranno anche due Eurostari in meno sulla tratta Reggio Roma dirottati su quella Roma-Venezia. E non si tratta dell'unico atto di favore compiuto nei confronti di altre realtà territoriali del centro-nord. Se con una mano in Calabria le ferrovie dello Stato cancellano i treni notte, con l'altra saranno garantiti ma per l'utenza della tratta Parigi-Venezia. Un desolante quadro, quello che emerge dalla denuncia della Will Trasporti Calabria, che intanto si prepara a due importanti eventi a partire da quello di mercoledì a Reggio, con una tavola rotonda a cui siederanno i vertici dell'FS, Ferrovie della Calabria e della nuova compagnia privata nazionale NTV, operativa a partire dal 1 gennaio 2012, assieme ai rappresentanti del mondo politico istituzionale della Regione. Un appuntamento a cui il sindacato si prepara con quella che a suo dire può essere una proposta valida per il rilancio del trasporto su rotaia, non solo interregionale ma anche locale. Cioè noi chiederemo sostanzialmente l'apertura del mercato ferroviario Calabria a tutte le imprese ferroviarie sul territorio. Non a caso abbiamo invitato NTV al quale chiederemo di portare i treni in Calabria, così come chiederemo a Ferrovie della Calabria di poter svolgere un ruolo diverso da quello attuale, cioè sostanzialmente di guardare con più attenzione alla possibilità di fare trasporto su ferrovia ma come cargo, come logistica e chiederemo ovviamente a FS che rispetto a questa sfida possa rilanciare i propri servizi ferroviari in Calabria.